Anche quest'anno ci affermiamo come stabilimento balneare, offrendo servizi per tutte le età, quindi chiunque può venire qui a tutte le ore e passare il proprio tempo rilassandosi o divertendosi. Le punte di diamante sono senza dubbio un occhio di riguardo per i bambini, infatti c'è un summer camp, o anche per i disabili, infatti le barriere architettoniche sono abbattute al 100%. Un altro particolare interessante è che cerchiamo di attenerci alla norma plastic free, quindi abbattendo al massimo che possiamo l'uso della plastica, sostituendola con plastica compostabile e anche con una attenta raccolta differenziata. Volevo sottolineare inoltre che il nostro gruppo di lavoro è un gruppo fresco e dinamico in cui vi è l'ideale della responsabilità condivisa. Siamo tutti, la maggior parte, giovani universitari che si spendono durante i mesi estivi con l'unico obiettivo appunto di offrire una estate all'insegna del relax e del divertimento. Abbiamo già iniziato con la programmazione estiva, con musica dal vivo, DJ set quasi tutti i giorni con diversi generi musicali che vanno dal reggae all'elettronica alla musica italiana e anche con lo sport, quindi ci sono palestre che si allenano qua nel nostro stabilimento e anche con l'organizzazione di tornei di beach volley e beach tennis. Chiunque qui può venire trova servizi a tutte le ore sia dalla spiaggia al ristorante al beverage e anche sport, musica e divertimento a 360 gradi. Il bancone è la parte più importante diciamo anche perché è la scena primaria che vede il cliente una volta che arriva, quindi senza dubbio è il nostro punto di forza. Il personale è selezionato tutto nella maniera più precisa e nei minimi dettagli giusto per andare a remare nello stesso obiettivo, a remare per andare a fare proprio quello che ci compete che è appunto aggregazione ed ospitalità. Stiamo andando nella stessa falsariga dell'anno scorso, abbiamo semplicemente potenziato di più i reparti perché abbiamo capito che il servizio di ristorazione, il servizio di caffetteria è quello che la gente chiede di più. Il mare permette di godersi, un cornetto arriva al mare appunto, la colazione è disponibile dalle 8 mentre la cucina apre alle 12 fino alle 15. Il personale in cucina è molto attento sulla selezione appunto del pesce fesco ma anche comunque è una cucina aperta un po' a tutti, dinamica, produttiva per far sì appunto che una volta seduti si mangia velocemente e si torna a godersi quello che è lo spettacolo che ci offre il pata pata. Per poi arrivare alle 18 dove è possibile fare aperitivo grazie anche alle selezioni musicali e tutto l'entrinamento che comunque è il nostro punto di forza.